Ho incontrato una donna strana È dei Black Shores Ti ha detto qualcosa, l'ho lasciata andare Shizia si è accorta di un uomo Di un uomo sospetto Che l'ha tenuto l'occhio Sì, Steffi è finita Perché sono troppi Oh mio Dio, c'è ma lei è madonna Ma è tipo una versione Ok Camminavamo sulla strada Indossando i Black Gloom Ok Abbiamo parlato da diverse persone Ma non ho sentito niente di utile Dov'è Shikshu? Ok, Shikshu ha trovato qualcuno di sospetto È lui Nooo, vabbè Madonna, scema più scemo proprio Santo Dio Madonna Santa Sampo proprio Scema più scemo hanno fatto Scema più scemo hanno fatto proprio Ahahah Dio, ti ha avuto il vento Ho visto una ragazzina con lui Continuavo a girarci A guardare intorno E ora è sparita La VIX a me sta piacendo E i personaggi mi piacciono un sacco Mi piacciono anche Mi piacciono un sacco le animazioni che han fatto Di Cambio proprio Di volto e di Come si muovono in base a quello che sta succedendo Cioè è molto È molto dinamica la cosa, mi piace un sacco La sto seguendo molto volentieri Ed è anche bella veloce in realtà Business License? Che mi sembra di aver appena visto Perché mi sembra di parlare con un Sam Pocoski Ho un problema E ora c'è un capitolo 1 al 3 e mi dice di Di adattare il feed Arrivo sul post Non ci sono nemici Ah da È un po' difficile Eh adark Non lo so Non lo so Non ne dà Cioè mi ricordo anch'io che arrivi E mi pare che iniziano a partire A partire nemici Eh boh Forse devi Devi interagire con qualcosa Non mi ricordo No ma devi interagire con qualcosa Di no In teoria Non è una licenza Ok comunque ha detto che è un informatore Tipo ok Ok immagino che tu non abbia neanche Un post Che il tuo business Non abbia una locazione fissa insomma Perché ne dovrei avere bisogno Now show me your organizational accreditation please Mostra mi la tua organizational accreditation Ok No no adark ma lì non so se devi veramente combattere con qualcuno Può essere che devi semplicemente interagire con qualcosa Eh crimson non lo so ma si andia Ok sono Broker of information Posso chiamarlo informatore no Informatore onesto Sempre aperto a negoziazioni Al giusto prezzo Ok sono l'intel cem Ma questo lo traduca Ok compiù Best seller di certificati Che posto con te Wow ma che cazzo Non c'è No license No clear business plan Si no Attenzione Stai gestendo un business illegale Chi è il tuo supervisor? Tu dovresti avere il suo ID Chi? Aspetta ma lavora con Camelia? È un essere antico Nata con questo pianeta Se qui viviamo È la volontà della stella Il riverbo risulta in questo mondo Wow Hai un supervisore o no? Ti ho già parlato di lei Perché non mi credo Mi sa che lo dobbiamo arrestare Il signor Alto qui Seguo il patto E le nation Mi sa in capa Si Salvo Oh Aspetti di prendere L'arma 5 stelle Intanto ne uso In A3 R5 Oppure Puoi prendere quella del past Se prendi il past Oppure puoi prendere quella di Gillian Però se non prendi Gillian Non te la consiglio Ok Ok So cosa sta succedendo Stai vedendo com'è la stazione Ok Niente lo sta arrestando Non ho fatto niente illegale Sto cercando qualcuno Una piccola ragazza Salta così Ok Sto cercando una ragazzina Che si fa notare In qualsiasi pollo Ok Pensi che ci creda L'hai vista prima Ragazzina piccola Che ha i capelli rosa Come lo sai Ma è Anchor Oh 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 Please watch out It's dangerous to me Like that Oh 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 Si sta Lascia quella ragazza da sola, niente Ok, è la ragazza che sto zoccando Ok, conosci questa persona? Ok, si, la conosco Ma l'ha appena snicciata, wait Ma l'ha totalmente snicciata, aspetta Zio Alto offende cose, sento una ricetta So praticamente spia le persone per segreti commerciali Adoro fare scherzi ai bambini Non sono così vecchio? Sei abbastanza sospetto comunque Vedi, mi piacciono un sacco le espressioni che gli fanno i pg Ma tutti proprio Le hanno fatte stra bene, raga Hanno fatto un bel lavoro Hanno fatto veramente un bel lavoro Mi piace un sacco L'ho incontrata vicino Ok, dov'era Berlina prima Stava mangiando un fungo verenoso Sono riuscita a fare l'antidoto in tempo Wait, what? Non ti preoccupi Ancora ha già mangiato un sacco di quei funghi Ma in che senso? Ma perché ti andavi a un po' così pericoloso No, che mangi funghi è ancora non ho dubbi Ok Dici quello che sai Ancora deve tenere un occhio su di lei Ok I bambini hanno una grossa immaginazione, ok? Non hai mandato anche a Uli? Perché ti stanno guardando frutti? Alcune cose è meglio non dirle Ho visto che la situazione è arrivata a questo punto Alla scelta, ok? Siamo qui per business E uno cruciale, ok? Volete sapere cos'è? Che fuga è? È la fuga più scarsa e scam della storia Dove ancora un mondo a salvare? Madonna, son Non ce la faccio Troppo buono Ok, questo l'hanno fatto Vabbè, questo era molto buono Ha missed figure di alto, ok? Interessante Interessantissimo Ok Cioè, le hanno fatte veramente Questa scena era fatta Le hanno fatte bene Mi sta veramente piacendo Sono divertenti Le espressioni facciali sono belle Poi c'è un sacco Cioè, va tutto molto di fretta Su c'è una cosa manetta Cioè, bello Mi piace Hanno scelto un bel pacing Poi bisogna vedere dove va, capito? Però Cioè, piacevole da seguire Ok, comunque c'è altro Che continua a lasciare le sue immagini in giro La sua nebbia in giro La distanza tra ogni figure che stiamo trovando Di stare impicciolendo Non stavamo scappando da te Volevamo assicurarti cari da sola Un altro Oh mio Dio Allora, Scar e quell'altro ci stalkerano Camellia ci stalkerano Alto ci stalkerano Jinsi ci stalkerano Tanua ci stalkerano Ho capito Be good, please Ah Ancora e Ancora Alto non faranno niente Non pensavo collaborassero a Ancora e Alto Ok Cosa volete da me? Stai spaventando la nostra cliente Ok Sarina, se ti piace è ottimo È un buon PG Ha ancora fatto quello che ha detto Alto Ok Abbiamo qualche domanda per te È stata la tua idea Di avere queste due Le due ragazze Indossare questi fiori falsi Per attire la nostra attenzione Sembravano convincenti Se fosse stato un esterno Li potrei scambiare per quelli veri Conosciamo un plant type resonator anche noi Camellia Ah ma Alto è ancora Prima parte di Black Shores Con Camagnia Il mio passato però deve essere legato ai Black Shores Quindi anche loro sono del Anche loro sono del Dei Black Shores Ok 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 La persona che stavi cercando sta davanti a te Ok Io non lo so Ok Fantastico Che tentami dei Black Shores Non posso dire di essere sorpreso In che senso si? Devi imparare come goderti una sorpresa quando puoi o la vita diventa noiosa So che hai un sacco di domande per me Ma un momento Come sai già Ok sono un informatore Il che significa che faccio affari Deve se che passare informazioni a gratis Se vuoi informazioni da me devi darmi qualcosa Relax rover We just want to make a deal with you We want you to come with us to an abandoned court of Cervantes To help us recover a residence beacon Raven è il main character è un buon DPS Cioè Come sai dai Ciao wiki Ok vogliamo che vieni con noi Mi ho accorto abbandonato di Savante Per aiutarsi a recuperare un residence beacon Ok No Quando lo trovi lo trovi Verina no va In cambio ti dirò tutto quello che sappiamo Ok Perché dovrei credermi Il nostro business è centrato sulla soddisfazione dei clienti Ok E sull'integrità Altrimenti non ci qualificheremo come consulenti di Black Shores Ok E visto che sei un cliente Ok 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 Dovrebbe darti prova che siamo seri Visto che sei già cosa rappresenta Se hai ancora dubbi su di noi Mostralo A Camelli Ok Ah no Non a Camelli A Verina per verificare che il fiore sia vero Ok Encore Do your cute face Quick Ah 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 Per convincerla di lavorare con loro Madonna santa Ah 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 Non può fare niente Ah 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 Per Cioè per convincerla Ah 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 Guarda questa povera bambina che te lo ti prega così Come puoi declinare Ah 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 Ok ti aspettiamo vicino I Whining X Meier E vieni da solo Allora questa parte Di quest Per me prima già era una bomba Perché comunque Stava andando veloce La serie a animazioni I cambi di espressione Tra i pg gli scambi no Ma questa era una bomba Questa era veramente Questa era carina Questa l'ha fatto molto bene Meglio così Cazzo è andato bene Ok questo fiore Sicuramente è un tipo di Remnant plant La concentrazione Di Remnant Energy È molto più alta Del solito Ok Cosa ti hanno detto Ho fatto un affare con loro Ok Ok Quel posto Ho sentito solo che è un istituto di ricerca abbandonato Un istituto di ricerca abbandonato Per via delle condizioni meteo pericolose Nel Whining X Meier Sono passati anni Visto quando qualcuno è andato lì Ok Dirò all'accademia di questo E ti aiuteranno a trasmettere i dati Dal Nexus Ok E poi il beacon Nel Whining X Meier Dovrebbe essere sbloccato Per te Ok Ci sono state parecchie attività di Tasted Field recentemente Se vai lì da sola Stai attento Ok Ok No Cazzo Ti scegli un altro TPS Per elemento diverso Poverina va bene Ah si va subito Parla con alto Anchor Aspetta ma dov'è sto posto Ah ok Va bene No Ah sì Ah eccolo qua Sì è dove c'è il boss Il Mecha Abomination Ok Ok Quanti HP ho Ok Perché ho una notifica nello zaino Per cui ho il Blake Bloom Marco di identità usato dai membri dei Black Shores Interessante Ok Quindi dobbiamo andare con alto ed ancora a fare i casini Abbiamo incontrato Camel Ma no abbiamo visto Camel Ma no Camelio Fuori di test Io devo tenermi le pul per Camel È M Grazie a tutti